Nel nome del Padre, del Signore e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, quindi divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come a mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrò pure dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste, Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia paterne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questi ospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Leggina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso. Affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sopra una Reggina a te mi affido affinché qui di miei passi nel Regno del Volore Divino. Estretto la tua mano a Matera in guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Amén. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con me. Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, Cristo Gesù, venga il tuo regno. Il libro di cielo, volume 9, capitolo 19, 2 novembre 1909. Continuando il mio solito passato, continuando il mio solito stato, stavo pensando alle mie cose passate e il benedetto Gesù facendosi vedere appena mi ha detto, figlia mia non guardare il passato, perché il passato sta già in me e ti può essere di distrazione e ti può fare sbagliare quel poco di via che ti rimane da fare, perché quel rivolgerti al passato ti farà allentare il passo per il presente cammino e quindi ci perdi tempo e non prendi via. Ma invece guardando al presente, terrai più coraggio, ti sarai più stretta con me e prenderai più via e non passerai pericolo di sbagliare. Capitolo 20 4 novembre 1909 Avendo fatto la comunione, stavo dicendo al mio adorabile Gesù Già sono stretta con te, anzi medesimata. Se siamo già una cosa sola, io ti lascio il mio essere in te e vi prendo il tuo. Quindi vi lascio la mia mente e prendo la tua. Vi lascio i miei occhi, la mia bocca, il mio cuore, le mie mani, i miei passi. Oh quanto sarò felice d'ora in poi, penserò con la tua mente, guarderò con i tuoi occhi, parlerò con la tua bocca, ti amerò col tuo cuore, opererò con le tue mani, camminerò con i tuoi piedi e se qualche cosa mi verrà dirò. Il mio essere l'ho lasciato in Gesù ed ho preso il suo. Andate da Gesù, che vi risponderà per me. Oh come mi sento beata, ah sì, anche la tua beatitudine vi prendo, non è vero Gesù? Ma mia vita è tutto il mio bene, tu con la tua beatitudine rendi beato tutto il cielo, ed io prendendo la tua beatitudine non rendo beato nessuno. E Gesù mi ha detto, figlia mia anche tu puoi col prendere tutto il mio essere insieme alla mia beatitudine e rendere beati gli altri. Perché il mio essere ha la virtù di beatificare? Perché tutto è armonia in me, una virtù armonizza con l'altra, la giustizia con la misericordia, la santità con la bellezza, la sapienza con la fortezza, l'immensità con la profondità ed altezza, e così di tutto il resto. Tutto è armonia in me, niente è discordante. Queste armonie rendono beato me stesso e beatifico tutti quelli che a me si avvicinano. Onde tu vuoi prendere il mio essere, sta attenta che tutte le virtù armonizzino tra loro. E questa armonia comunicherà la beatitudine a chiunque a te si avvicina. Perché vedendo in te bontà, dolcezza, pazienza, carità, uguaglianza in tutto, si sentiranno beati stando a te vicini. Capitolo 21, 6 novembre 1909 Stavo lamentandomi con Gesù delle sue privazioni e facendosi vedere appena mi ha detto Figlia mia la croce unisce sempre più con me. Queste privazioni che tu soffri ti fanno sorvolare sopra di te stessa. Perché non trovando in te colui che ami, ti viene annoia la vita. Le cose che ti circondano tutte ti infastidiscono. Non hai dove poggiarti. Colune il quale tu solo poggiavi pare anche in te ti manca. E quindi l'anima sorvola, sorvola fino a porgarsi di tutto e fino a consumarsi. Ed in queste consumazioni il tuo Gesù ti darà l'ultimo bacio e ti troverai in cielo. Non sei contenta? Ecco, abbiamo questi tre brevissimi capitoli, ma profondissimi, che speriamo di mantenere nei termini e nei limiti di una meditazione. Perché gli argomenti sono molto profondi e molto importanti e molto delicati. A partire dal delicatissimo e importantissimo tema della vita interiore che è il passato. Il nostro passato. Diciamo subito che la fede cattolica, se vogliamo usare uno slogan, è la fede dell'oggi. Chi prega con la Chiesa la liturgia delle ore, sa che ogni mattina al primo atto liturgico che si compie, che può essere l'ufficio delle letture o le lodi mattutine, a seconda di come si si organizza con gli orari, un tempo era sempre il mattutino, adesso per buone ragioni si può anteporre all'ufficio delle letture anche le lodi, ma il primo atto liturgico, che siano l'erodio o che siano l'ufficio delle letture, è sempre preceduto dall'invitatorio, che ordinariamente è il Salmo 94, anche se adesso può essere sostituito con altri tre salmi. Non ricordo tutti quanti i numeri, però acclamate al Signore, Dio abbia pietà di noi e ci benedica, e del Signore alla terra e quanto contiene, sono gli incipiti. Ora nel Salmo 94, che per antichissima tradizione, quando c'era il breviare un romano, ma era l'unico Salmo invitatorio, culmina con odiesi, voce em eius audiatis, o audieritis, a seconda delle versioni. Oggi se ascoltate la sua voce non indurite il cuore, c'è quell'oggi, oggi, oggi. La lettera agli ebrei ne fa oggetto di ampia meditazione su questo oggi, evidenziandone l'importanza. Perché? Perché l'oggi caratterizza il momento presente, l'attimo presente, è l'unica cosa su cui noi abbiamo potere immediato. Io non posso farci niente a quello che ho fatto anche soltanto ieri, niente. Non ci posso fare più niente. Cioè, noi abbiamo questa legge della vita, che praticamente, mano a mano che scorrono i secondi, c'è come se ci fosse una penna indelebile, che scrive quello che stiamo facendo sul libro e sulla pagina della nostra vita. Qui, la scrittura è indelebile, d'accordo? Altre volte, insomma, parlavo, dice, se hai scritto gli strafalcioni, l'unica cosa che si può fare è ricorrere al sacramento della venidenza e poi, come dire, metterci sopra una targhetta con sopra scritto misericordia, d'accordo? Questo sì, ecco. La cosa però importante è che nel libro dell'oggi si scriva meglio di quello che si è scritto fino a ieri e che ogni giorno la scrittura migliori, 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 migliori. Ora, ci sono molti modi malati per guardare al passato e sono quelli di cui fa riferimento Gesù e che sono deleteri. Allora, qui bisogna fare alcuni distinguo. Gesù qui sta parlando ad un'anima che sta camminando verso la perfezione. Quindi quest'anima non ha nel suo passato scandali non riparati, peccati non confessati o disastri non ancora compresi. Questo dobbiamo tenerlo ben presente perché supponiamo una persona che è vissuta 30 anni lontano da Dio e questa non è che non deve guardare il passato questi conti con il passato deve farli. Una volta che sono stati fatti i conti con il passato bisogna archiviarlo in questo modo. Quindi, tornando, se noi conti col passato lo abbiamo fatti, cioè abbiamo avuto la grazia di poter rivedere la nostra esistenza, di poter scoprire i nostri peccati e confessarli, i nostri errori accorgercene e comprendere la necessità di correggerli, riconciliarci con il nostro vissuto, con chi ci ha fatto del male, perdonare e perdonarci. Fatte queste cose, c'è un'altra bella cosa che si può fare nel ciclo di Catechesi sulla Divina Volontà, si trova, è rifare gli atti nella Divina Volontà. Perché qui dice una cosa Gesù, no? Non guardare il passato perché il passato già sta in me. ma nella Divina Volontà noi sappiamo che il passato, il presente e il futuro non esistono. E sappiamo anche che Gesù ha rifatto tutti gli atti di tutti gli esseri umani a Lui contemporanei, passati o futuri che siano stati sul pianeta Terra. Quindi io non soltanto posso mettere il bollino misericordia sui peccati e il bollino capito, quindi conversione sugli errori. Ma possiamo anche mettere sugli uno e sugli altri il bollino Gesù fa nuove tutte le cose. Quindi mi posso andare a prendere nella Divina Volontà i meriti degli atti compiuti da Gesù per me, come se fossero i miei. E questa è una cosa veramente bella, altamente liberante e santificante. Ecco, fatte queste cose, noi non possiamo e non dobbiamo rimanere prigionieri del passato. Né per quanto riguarda uno e né per quanto riguarda gli altri. Facciamo un pochino di esempi. Non possiamo stare una vita a campare di rimorsi o di sensi di colpa. Non possiamo e non dobbiamo giudicarci perché nessuno può farlo. Perché noi non sappiamo quando anche avessimo fatto delle colpe o degli errori quanto e fino in che misura ne siamo responsabili. Non possiamo saperlo. Questo lo sa soltanto Dio. Per questo Gesù è tassativo nel dire di non giudicare. Non solo gli altri ma nemmeno noi stessi. Non possiamo campare di rimpianti. D'accordo? E va a pensare alle cose che non hanno funzionato. Anche alle occasioni che si sono perse. potrebbero starci ma non possiamo cambiare a campare di rimpianti. Meno che mai possiamo e dobbiamo campare di rancori. I rancori si riferiscono al passato che io reputo cattivo nei miei confronti da parte di qualcun altro. quindi tutte quante queste cose quindi rimorsi sensi di colpa sterili rimpianti rancori desideri irrealizzabili o se tornassi indietro questo non lo farei questo non lo farei eccetera eccetera dopo che i conti con il passato sono stati chiusi vanno lasciati. San Paolo scrive Dimentico del passato è proteso verso il futuro cioè i cristiani vivono così il passato ringraziano il Signore per tutto il bene ricevuto danno gloria a Dio per il bene che hanno fatto chiedono perdono per il male commesso chiedono perdono a Dio e al prossimo per il male commesso se c'è perdonano tutto a loro volta si riconciliano con la loro storia e ringraziano il Signore che gli ha fatto capire le cose in cui anche magari in buona fede si sono nella vita sbagliati dopo di che si va a protesi verso il futuro l'unica io penso non vorrei contraddire Gesù quindi dico questa cosa insomma ovviamente con l'inciso che se avessi capito male se qui Gesù volesse ovviamente contraddirmi c'è ragione lui insomma io penso che l'unica cosa positiva è come dire quando si dà qualche rapido sguardo al passato è nel senso di storia magistravite cioè io dal passato posso imparare appunto in base ai peccati commessi agli errori fatti alle stupidaggini fatte quello che non devo rifare oppure quello che adesso devo fare oppure quello che posso e devo fare meglio eccetera ecco perché in questo senso Dio ci parla e ci istruisce anche attraverso gli errori e i peccati che ha permesso che noi compissimo nella nostra esistenza ecco ma questo però non non deve in nessun modo risucchiarci non deve farci rallentare il passo non deve farci perdere tempo come dice Gesù non possiamo cioè io non posso stare a croggiorarmi a ripensare pensa al presente pensa al futuro hai fatto un sacco di peccati fa niente adesso fa un sacco di opere buone hai commesso un sacco di errori fa niente fai un sacco di cose giuste hai perso un sacco di tempo bene adesso impiegalo bene c'è sempre questa visione molto ottimistica che si fonda tra l'altro sulla verità profonda della divina misericordia e sul principio Paolino che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio ecco non bisogna nemmeno nel passato mantenere presunte cambiali aperte nei confronti dell'altissimo questo è un altro problema mi era sfuggito cioè pensare se Dio mi avesse fatto vivere una storia diversa se non mi avesse dato quel padre se non fosse successa quella disgrazia se non mi avesse dato quella madre le cose sarebbero andate diversamente questo non è un buon rapporto con il passato e non è un atteggiamento di fede perché chi è fuso con la divina volontà non soltanto che non dice questa cosa ma ringrazia Dio per tutto quello che è stato esattamente così come è stato perché anche il male permesso da Dio concorre al bene dei suoi figli in una maniera che per noi adesso è tanto misteriosa ma sarà pienamente svelata quando saremo dall'altra parte ecco quindi attenzione perché il nostro passato può essere un problema enorme nella vita spirituale perché i pensieri distorti al suo passato in generale un'isperazione ah non cambierò mai ah sarò sempre lo stesso ah questo ah quell'altro eccetera no? ecco invece qui abbiamo un esempio vivo di cosa significa vivere in stato di fusione con Gesù nel secondo capitoletto e ti lascio il mio essere e prendo il tuo ti lascio la mia mente e prendo la tua ti lascio i miei occhi la mia bocca e da ora in poi penserò con la tua mente guarderò con i tuoi occhi eccetera eccetera il mio essere l'ho lasciato in Gesù e ho preso il suo come mi sento beata perché 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 Gesù è a beatitudine letificante quindi se si vive in questo orizzonte e per farlo questo dobbiamo aiutare anche un pochino l'anima sgombra quindi dobbiamo impiegare il tempo in questo cioè nel coltivare questa spiritualità questo modo di vivere non restare a piangerci addosso o a pensare al passato che è sempre una forma di resipiscenza di reviviscenza dell'io e interessante quello che poi dice Gesù ribattendo a Luisa e che ci fa anche comprendere qualche cosa di molto importante dice la tua presenza è beatificante dice tu rendi beati tutti tutto il cielo rendi beati pure a me mentre io invece prendo la tua beatitudine perché si vive felici vivendo in questo modo però non rendo beato nessuno e Gesù qui dice alt questo non può essere vero e spiego una cosa fondamentalissima che è il perché il suo essere ha la virtù di beatificare e dice una parola fondamentale perché tutto è armonia in me ora chi parla non è purtroppo musicista ecco già dire purtroppo insomma ho suonicchiato un po' nella mia vita ma so benissimo che la musica è uno di quei mondi meravigliosi dove tra l'altro a mio avviso accostandosi con un certo spirito si potrebbero scoprire tanti ti amo di Dio a mio avviso insomma questa è una mia opinione personale ma l'armonia che alcuni amici che hanno studiato dal conservatore quando erano ma giovani dicevano essere in materia molto ostica ha delle regole molto importanti e anche chi non conosce le regole può capire benissimo che se noi sentiamo in una canzone una nota stonata pure se tu non sei musicista tu lo senti questa cosa qui o in un coro una voce che stecca o che canta fuori dal cuoro tu la senti perché? perché ha violato l'armonia perché il discorso è questo qui cioè che 40 strumenti suonino accordati bene e uno stecchì purtroppo si sente quello che stecca si sente benissimo perché il bene implica l'armonia e la perfezione mentre il male basta che solo una cosa stia fuori posto e che si percepisce questa è una legge questa qui allora Gesù spiega dice guarda che l'essere beatificante che deriva dallo stare nel mio contatto è tutto armonia giustizia con misericordia che noi spesso concepiamo come contrapposte ma non lo sono la santità con la bellezza la sapienza con la fortezza qui Gesù accosta virtù che sembrerebbero apparentemente un po' distanti la sapienza è una virtù intellettuale per esempio la fortezza è una virtù morale che serve a dominare la parte irascibile di noi stessi quindi c'è distanza la giustizia e la misericordia non c'è bisogno di commentare e di percepire come sembrerebbero opposte o addirittura inconciliabili l'una con l'altra ma così non è dice tutto è armonia a me niente è discordante e attenzione se tu stai fuso con me gli sta dicendo tra lì che Gesù tu la devi vivere questa armonia e quali sono le note dell'armonia della nostra umanità che ci fanno comprendere che stiamo armonici col cielo lo spiega Gesù vedendo in te bontà dolcezza pazienza carità e uguaglianza in tutto si sentiranno beati stando vicino a te che cosa sta dicendo Gesù che se non compaiono queste virtù bontà dolcezza pazienza e carità ancora siamo lontani da essere fusi con la divina volontà e da essere immagini vere dell'infinita bellezza che Gesù nostro Dio nostro Signore nostro amore è e comunica a coloro che sono con Lui attenzione bene quindi non dice non parla di altre virtù bontà dolcezza pazienza e carità perché quando si manifestano queste virtù questo è il motivo sicuramente ci stanno tutte le altre perché nessuno è buono e paziente se non prega nessuno è buono e paziente se non ha un buon rapporto con Gesù caristia nessuno è dolce e caritatevole se non è imparato a fare un po' di penitenza se non è umile tutte le altre cose non compaiono queste virtù se non c'è dietro tutto un retroterra di tutte quante le altre virtù ma le altre virtù se queste non compaiono non sono spia di vera santità queste virtù bontà dolcezza pazienza e carità e carità ruotano tutto intorno alla carità la carità è paziente dice San Paolo la prima cosa quindi la pazienza poi la carità non manca di rispetto della dolcezza la carità non si adira quindi la bontà non tiene conto del male ricevuto capitolo 13 della prima lettera corinzi se queste cose non compaiono dobbiamo essere molto schietti su questo quindi senza darsi a giudicare violentemente ma ringocchiamoci le mani perché stiamo ancora in cammino nessuno pensi di essere nel giusto arrivato se non compaiono queste virtù altro punto di meditazione su questo aspetto se io incontro un santo da che lo capisco che è un santo se sto bene con lui se mi sento beato stando vicino a lui se la presenza di una persona ci rende contenti lieti è perché perché non siamo stupidi perché cogliamo lì dentro il riflesso della bellezza di Dio ecco perché la più grande operazione di riforma della Chiesa è la santità tutti torneranno a Chiesa Cattolica se si vedono queste cose tutti e chi non tornerà è perché è un demone incarnato quando a Santa Teresa di Calcutta gli dicevano ma con tutto quello che sta passando la Chiesa secondo lei cosa si può fare Santa Teresa di Calcutta diceva cosa si può fare cambiamo io e cambi lei già fare questo è fare molto sono parole da meditare quindi se gli altri stanno bene con noi buon segno perché si vede che stiamo diventando così se qualcuno meno ci vede meglio sta è un'espressione un po' comune e certamente non molto ricca di carità non ce la prendiamo subito col prossimo perché non ci capisce perché ci tratta male eccetera forse sarà anche vero però vuol dire che bontà dolcezza pazienza e carità difettano un po' se uno ci fa attenzione altrimenti le persone non sono sciocche le persone tendono naturalmente verso ciò che è bello ed è attraente e questo modo di essere di vivere è bello ed è attraente il contrario della bontà è la cattiveria il contrario della dolcezza è la sprezza il contrario della pazienza è l'intransigenza è l'eccessiva severità il contrario della carità è la durezza è lo spirito di contesa la polemica eccetera ultime considerazioni dell'ultimo brevissimo capitolo qui di nuovo l'importanza della croce sia per le anime non potremmo dire con origine con l'ascetica classica proficenti che con le anime che tendono invece alla perfezione quindi il secondo e il terzo livello della strada della santità e questo era chiarissimo anche a Sant'Ignazio di Roiola che ne fa ampie spiegazioni il Signore le fa crescere con le privazioni si chiamano così i momenti in cui sottrae e toglie la percezione della sua presenza sensibile perché questa è una ginnastica continua del desiderio che fa fare all'anima perché questo è il motivo per cui lo fa e più si desidera perché per desiderare un oggetto io non lo devo avere in possesso attuale perché se sono in possesso attuale lo posso amare ma non lo posso desiderare ogni tanto Gesù si dà a noi in possesso attuale perché lo amiamo perché vuole amarci e perché vuole essere da noi amato però in questo mondo non può essere sempre così perché se fosse sempre così disgraziatissimamente purtroppo per come è la vita terrena noi ci abitueremmo addirittura anche alla sua presenza e questo non va bene perché il desiderio deve essere sempre tenuto allenato e al tempo stesso dobbiamo sempre più tra l'altro scostarci e distaccarci da tutto ciò che non è lui quindi non trovando in te colui che ami dice Gesù ti viene a noia la vita le cose che ti circondano non ti infastidiscono non hai dove poggiarti quindi che facciamo noi quando Gesù se ne va andiamo a trovare i suprogati o i palliativi quindi ci volgiamo a consolazioni umane oppure manteniamo il cuore fermo in lui facendo un po' di ginnastica del desiderio anche in attesa che certamente questa roba sempre tornerà e forse più presto di quanto pensiamo ecco questa è un'operazione normale ecco non non deve stupire certamente come ho detto altre volte specialmente poi in una vita nel divino volere profondamente interiore se questa presenza dovesse mancare per periodi troppo prolungati troppo prolungati si intende mesi insomma e quindi che a volte insomma il nostro signore può fare qualche qualche blackout anche consistente proprio per metterci un pochino alla prova però insomma comincia a protrarsi a tempo determinato poi uno si accorge insomma quando cominciano ad apparire le avvisaglie dell'acidia nel senso che uno ha tedio nella vita interiore nella preiera eccetera eccetera beh lì c'è qualcosa che non funziona perché in quei casi la presenza di Gesù sfugge proprio perché vuole farci rendere conto che siamo ancora troppo attaccati ad altre cose e quindi se non operiamo le opportunità di Gesù non torna o non torna diciamo in maniera molto percepibile come come dovrebbe insomma ecco questo teniamolo presente perché è un principio fondamentale di discernimento di quello che accade dentro la nostra anima che accade è un che accade allora è un che accade che accade di tutto che accade di tutto è un che accade che accade Bene, Santa Maria, in nome di Iuta sia a vivere i dimentichi del passato, a chiudere con i disordini del passato e a immergerci nell'armonia del presente in una ricerca sempre più assidua e fervente dell'unione con Gesù e con la Divina Volontà. Questa è l'unica cosa che conta, è l'unico modo per impiegare bene il tempo che ancora ci resta in questo mondo da vivere per dare molta gloria a Dio e per ricevere al massimo possibile tutti i benefici che Egli già ci ha donato e che attendono solo di essere da noi conosciuti, desiderati e vissuti. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.